Il primo racconto 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 E Segni e prodigi Che non sono solo Miracoli Guarigioni Segni e prodigi Sono anche La costituzione Di vere comunità Comunità in cui La presenza di Cristo È centro di comunione E di fraternità Quello che il Vangelo di Marco Riassume così Ecco Luca Il teologo della storia Lo distende Nella storia E ne fa due parti Due libri Due racconti Il racconto Il racconto Di Cristo Che è il centro Della storia Del tempo È il racconto Della Chiesa Che Prolunga Questo centro Della storia Nella sua missione E fa in modo Che ogni tempo Abbia Cristo Come centro Ogni storia Abbia Cristo Come punto di riferimento Ogni uomo Abbia come cuore Cristo stesso E infatti Il libro degli Ate degli Apostoli Incomincia proprio così Nel primo racconto O Teofilo Ho trattato di tutto quello Che Gesù fece E insegnò Fin dagli inizi Ecco allora La storia Che viene visitata Dall'azione di Cristo Figlio di Dio E Porta avanti Cristo La sua missione Ricevuta dal Padre Fino al giorno in cui Fu assunto in cielo Dopo aver dato disposizione Agli Apostoli Che si era scelti Per mezzo dello Spirito Santo Dunque le disposizioni Del risorto Sono importanti Sono importanti Perché finalmente Il cuore degli Apostoli Incomincia a dischiudersi Alla verità E alla novità E gli Apostoli Incomincia a porre La propria volontà Sotto l'azione Dello Spirito Santo Sono le disposizioni Che abbiamo ascoltato Nel Vangelo Andate in tutto il mondo Predicate il Vangelo Ogni creatura Ma Gesù Gesù Deve Rendere forti I cuori degli Apostoli Per cui Si mostrò vivo Dopo la sua passione Con molte prove Questa parola prove Ci spaventa Perché Dal nostro punto di vista Di uomini Fragili Che però sentono La forza della libertà Cerchiamo segni Invece Dalla parte del Signore Nella potenza Della sua divinità Egli dà prove Ma queste prove Giungono sempre A noi Come segni Ma questa volta Vogliamo Un attimo Porci Dalla parte Del risorto Per cui Quello che Gli offre Dalla sua condizione Di risorto Sono prove Dalla nostra condizione Sono segni Da leggere Nella fede E tante volte Bisogna credere Anche Senza segni Ma la fede Ci dice Che Non ci sono i segni Ma da parte di Dio Ci sono le prove Ci sono i segni Ma quei segni Dalla parte di Dio Sono prove Gesù È il sacramento Del padre E mi permetto Di dire oggi Gesù È la prova Del padre È la prova Che il padre Ha dato A tutta l'umanità Ma in questi incontri Del risorto Dopo Pasqua Ecco Gesù Dà anche Una raccomandazione Immediata Che però È decisiva Per la vita Della Chiesa Nascente Di non allontanarsi Da Gerusalemme Ma di attendere L'adempimento Della promessa Del padre La Galilea Per incontrare Il risorto E capire Che dalla Galilea La missione Si apre a tutto il mondo Vi precedi In Galilea Ma Ritornare a Gerusalemme E rimanere a Gerusalemme Per avere Il dono Del risorto La Galilea È il luogo Della partenza Della Chiesa Ma Gerusalemme È il luogo In cui La Chiesa È costituita È costituita Dal mistero Di Cristo A morte E risorto Ed è costituita Dal dono Misterioso E vero Dello Spirito Santo La promessa Del padre Che voi Avete udito Da me Giovanni Battezzò Con acqua Voi invece Trano molti giorni Serede battezzati In Spirito Santo Sì Il compimento Della promessa Deve avvenire Nel luogo Che rappresenta Tutte le promesse Deve avvenire A Gerusalemme Dove tutto Si svolge Dove tutto Si compie Dove Si riavvolge Il mistero Dell'amore di Dio Che salva E si riavvolge Con il dono Dello Spirito Che poi Srotola di nuovo La vita Della Chiesa E la srotola Nello spazio Del mondo E la srotola Nel tempo Nei secoli Dei secoli Ma nonostante Gesù fa Queste raccomandazioni Così decisive Il cuore Degli apostoli È ancora Legato Da Una Interpretazione Delle promesse Ristrette Signore È questo Il tempo Nel quale Ricostituirai Il tuo regno Il regno Per Israele E qui il Signore Lancia Nella universalità Attenzione Non a partire Dalla moltitudine Dei leggenti Ma lancia Nella universalità A partire Dal disegno Universale Del Padre E a partire Dalla forza Universale Dello Spirito Santo Non spetta a voi Conoscere Tempi E momenti Che il Padre Ha riservato Al suo potere Ma riceverete Forza Dello Spirito Santo Guardate La nostra Cattolicità È L'apertura All'universalità Ma la nostra Cattolicità Ha radice In quella Comprensione Totale Che è solo Del mistero Del Padre E in quella Forza Universale Che è l'azione Dello Spirito Santo Il mistero Della cattolicità Sta nell'amore Universale Del Padre Il mistero Della cattolicità Sta nel dinamismo Universale Dello Spirito Santo E di Mesa E di Testimonio A Gerusalemme Nella Giudea Nella Samaria E fino ai confini Della Terra Quindi La testimonianza Che si universalizza E che vada Per tutto Non per Scelta Apostolica Non per capacità Apostolica Non per forza Propria Della Chiesa Ma perché Ha radice Nell'amore Universale Del Padre E nel dinamismo Universale Dello Spirito Santo Essi Devono Dar ragione E devono dare Testimonianza Della salvezza Universale Fatta dal figlio L'amore L'amore universale Del padre Il dinamismo Universale Dello Spirito Perché Il figlio È Il salvatore Del mondo E qui Dopo questa raccomandazione Ultima Che apre Al mistero Di Dio E Inserisce Il mondo Del mistero Di Dio Inserisce La missione Della Chiesa Del mistero Di Dio Mentre lo guardavano Fu elevato in alto E una nube Lo sottrasse I loro occhi La nube Lo sottrae Ma la nube È anche Garanzia Della presenza Soltrae La visibilità Ma garantisce La presenza E infatti Uomini di Galilea Perché state a guardare Il cielo Questo Gesù Che di mezzo a voi È stato assunto In cielo Verrà Allo stesso modo In cui l'avete visto Andare in cielo Il ritorno Escatologico È certo Ma La nube Deve accompagnare Il grande esodo Della missione Della Chiesa Il grande esodo Della storia Dell'umanità